Buonasera, Giovi Olivero, Gazzetta dello Sport. Intanto complimenti per la prestazione. Volevo chiedere, ho notato dal punto di vista tattico una differenza. Al primo tempo si tratta di sempre a verticalizzare sul centravanti per far inserire gli altri giocatori a rimorchio e questo metteva la Lazio in difficoltà perché i suoi centrocampisti dovevano correre indietro. Penso che poi fosse questo uno dei motivi perché non lo sanno fare tanto bene. Nel secondo avete giocato un po' diverso, siete saliti un po' di più con una manovra un po' più avvolgente e in entrambi i casi siete riusciti comunque a mettere in difficoltà perché sia nel primo sia nel secondo. Era una cosa già studiata all'inizio, ci ha pensato durante la partita, ha visto magari un po' di stanchezza nel fare lo stesso tipo di lavoro che c'era all'inizio e comunque in generale come è andata la partita? Buonasera a tutti. Mi fa piacere questa analisi che ha fatto, è vero. Noi abbiamo messo i due trequartisti alle spalle dei centrocampisti e provavamo a verticalizzare perché sapevamo che la Lazio poteva chiuderci tutte le linee di passaggio. Quindi ogni qualvolta che li trovavamo poi andavamo verticali a puntare comunque una difesa a quattro che Mister Sali lavora di reparto e quindi potevamo metterli in difficoltà. Nel secondo tempo la Lazio, soprattutto per merito della Lazio, ha alzato un po' la pressione quindi venivano un po' più forti e riusciva a farci giocare meno bene quindi ci ha tolto un po' il pallino del gioco però siamo andati più in ampiezza comunque abbiamo cercato più di avvolgere un po' la manovra e secondo me abbiamo fatto molto bene però mi piace che la squadra percepisca anche queste cose. Non era studiata ovviamente, la squadra nostra si è ovviamente adattata anche al modo della pressione della Lazio. Buonasera Mister Nicolò Faccini di Alzialità. Senta, la premessa è che dal suo arrivo a Monza, anche se lei non piace molto parlare di passato solamente Napoli, Juve, Inter e Lazio hanno fatto più punti del suo Monza o anche oggi insomma avete confermato di essere la terza squadra per conclusioni ma credo che il suo successo ed è il motivo per cui lei piace molto anche a Mister Sali che molto spesso la individua come uno degli allenatori più promettenti sia stato aver tolto alla Lazio il possesso la Lazio è stata quasi inebbetita dal possesso Pala del Monza le chiedo, fatta questa premessa, se poi vi siete un po' accontentati nel finale di gara perché la Lazio sembrava abbastanza in difficoltà. Grazie Beh, hai centrato proprio in pieno quello che volevo dire intanto noi, se parliamo della prestazione, abbiamo fatto davvero una grande partita sotto tutti i punti di vista sia in fase di possesso che non possesso affrontavamo una squadra che comunque era affamata di punti perché sapevamo che la Lazio aveva voglia e quindi temibilissima siamo andati subito sotto quindi la partita è stata complicata poi riprenderla però mi è piaciuta la reazione della squadra che è stata davvero su pezzo anche dopo lo svantaggio quindi abbiamo ritrovato ovviamente il pareggio e poi davvero abbiamo continuato a giocare, a mettere in difficoltà comunque la Lazio abbiamo fatto davvero una grande prestazione ci è servito perché per il proseguo del campionato perché ci serviva una grande prestazione contro una grande squadra dopo che contro l'Inter e l'Atalanta ci è mancato qualcosina abbiamo lasciato qualcosa per strada ci serviva davvero ma al di là dei punti mi serviva proprio la prestazione per dare consapevolezza per la crescita per ovviamente per lo slancio che ci darà per la consapevolezza del proseguo del campionato quindi siamo davvero soddisfatti, i ragazzi sono usciti stremati da questa partita perché non era facile però quello che tu dicevi prima forse ci è mancato un pizzico di convinzione in più nella parte finale perché se ci credevamo un po' di più probabilmente riuscivamo a portare anche i tre punti però al di là di questo ringrazio i ragazzi che hanno fatto una grande partita Buonasera mister Alessandro Sticozzi di AMV Radio complimenti, lo scorso anno due volte su due avevate perso con la Lazio quest'anno avete pareggiato più in generale sembra ad essere una squadra più abituata anche alla sofferenza meno belli ma più coriace rispetto allo scorso anno più capaci anche di mettervi come nel secondo tempo sotto palla senza soffrire troppo è dato casomai dal maggior tasso d'esperienza che avete con giocatori come Gagliardini e D'Ambrosio tanti dicono che abbiate perso un po' di qualità di sfrontatezza, di bellezza, di coraggio è la sua idea del Monza di quest'anno di avere una squadra perdoni il termine, più solida, più seria non che mancasse di serietà ma seria nel senso che è capace pure di sporcarsi ai mani di pareggiare gare sporche come questa Beh, ho fatto un'analisi completa riguardo a tutto lo sai che non mi piace parlare della passata stagione e il confronto con la passata stagione è sbagliato noi siamo questi di quest'anno Gagliardini, D'Ambrosio, Akpapro questi giocatori ci hanno portato esperienza, personalità e mentalità soprattutto quindi avere questi giocatori per noi è un valore aggiunto e ci ha dato veramente un grande stimolo e ci ha fatto crescere quindi siamo cresciuti sotto questo punto di vista qua mi serviva una partita solida oggi, l'abbiamo fatta e quindi anche quello è un dettaglio importante e non parlerei di bello o brutto belli o brutti non direi questo, direi che noi dobbiamo essere consapevoli che queste partite qua ce le possiamo giocare contro queste grandi squadre qua ci sarà l'altezza di campo che sarà un po' più bassa in delle partite e magari in altre partite un po' più alta però mi interessa soprattutto la mentalità che ha la squadra Salve mister Maurizio Vizioferrato Agenziaria il collega mi ha preceduto perché anche io volevo fare una domanda sui giardivi di Gagliardini e D'Ambrosio il Gagliardini stasera secondo me è stato monumentale però allora ho un'altra curiosità perché ho visto il Monza una partita intera solamente alla prima contro l'Inter quindi la mia curiosità è questa da dove si parla tanto di costruzione dal basso ho visto di Gregorio che invece rinviava sempre non ha mai provato no nel primo tempo per le caratteristiche della Lazio no allora io non sono un fanatico della partenza dal basso per me ha un criterio cioè se la squadra ti viene a prendere e riesce a uscire da dietro secondo me ti dà dei vantaggi più che svantaggi perché se sei bravo a lavorare se sei bravo ad avere dei principi di gioco molto chiari secondo me ti dà dei vantaggi è normale che nel secondo tempo la Lazio nel primo tempo secondo me l'abbiamo fatto molto bene poche volte abbiamo lanciato quasi mai probabilmente e nel secondo tempo la Lazio ha alzato un po' la pressione ci veniva anche ad attaccare in maniera diversa e probabilmente ci è mancato quel pizzico di coraggio in più per uscire da dietro però le uscite da dietro c'erano sempre però non è detto che bisogna uscire per forza da dietro si può anche giocare verticali perché poi il fine di questo gioco è andare a fare con lì ora o lo fai con dieci passaggi o lo fai con tre passaggi il fine è arrivare lì Buonasera mister Alessandro Vittori la Lazio siamo noi punto IT Football Magazine complimenti per la prestazione le dico la verità io invece molto spesso quando mi capita la seguo volentieri la sua squadra perché è sempre molto organizzata grazie per esempio contro il Lecce secondo me meritavate la vittoria e la classifica è bugiarda le chiedo una domanda sulla Lazio l'avete affrontata lo scorso anno forse nel momento migliore della squadra di Sarri ritorno parlo l'andata invece fu una partita un po' strana questo invece è il momento forse peggiore perché è in difficoltà a livello di punti in che cosa l'avete cambiata? ovviamente al di là dei risultati ma proprio a livello proprio di gioco grazie io credo che intanto la Lazio veniva da un pareggio che ha dato grande morale secondo me per come è arrivato con il gol di prove avevamo tanto timore di questo entusiasmo che potessero avere e di affrontare questa partita però io credo che noi abbiamo comunque un'identità di squadra molto chiara molto solida un'identità molto chiara e riusciamo a mettere in difficoltà le squadre che ovviamente si chiudono molto dentro e la Lazio cercava di difendersi in questa maniera noi l'abbiamo messo in difficoltà andando anche verticale trovando i trequartisti andando ovviamente ad attaccare questa difesa a quattro siamo riusciti un po' a metterle in difficoltà in questo con anche un po' stesso palla siamo stati bravi a riconoscere quando c'era superiorità quando si doveva ricominciare al di là dei difetti della Lazio direi che noi abbiamo dei meriti perché abbiamo fatto davvero una grande prestazione io credo che la Lazio farà un campionato di grande vertice e secondo me se la giocherà con le grandi squadre buonasera mister Giacomo Rossetti Ansa complimenti per la vittoria e per la prestazione le volevo chiedere oggi non è stata la sua partita migliore ma lei si sentirebbe di suggerire Andrea Colpani alla nuova nazionale di Spalletti grazie Andrea è un ragazzo fantastico strepitoso lavora ogni giorno per migliorarsi Andrea va lasciato tranquillo perché è un grande talento ha tutto ha tecnica ha talento ha qualità ha forza resistenza deve crescere ancora perché il campionato di Andrea passa attraverso il lavoro quotidiano che sta facendo e che deve continuare a fare lui non deve mai calare mezzo centimetro soprattutto nel lavoro quotidiano perché se vuole arrivare dove hai detto te prima deve fare questo e non deve mai calare e non sono i gol ma sono le prestazioni che determina poi il suo campionato le ultime due grazie buonasera mister Marco Segreto oggi sport notizie io volevo chiederle visto che in conferenza lei aveva parlato di agonismo e di giocare col coltello fra i denti se al di là della buona prestazione con cui assolutamente concordo ha visto questo atteggiamento questo temperamento nella sua squadra nella partita di stasera assolutamente sì infatti ho ringraziato la squadra dopo la partita ho detto che che loro sono questi che le ringraziavo perché avevo chiesto davvero una partita di spessore avevo chiesto quello che ci mancava un pochettino il cosiddetto coltello tra i denti l'abbiamo soprannominato che poi sono frasi anche fatte però rende anche un po' l'idea ci serviva questo perché come dicevamo prima sapevamo che venire qua all'Olimpico contro la Lazio non era semplice però l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto anche molto bene questa partita ci dà grande consapevolezza per il proseguo che si è un po' l'abbiamo che si è un po' l'abbiamo che si è un po' l'abbiamo che si è un po' l'abbiamo